io devo sapere che stanno andando con i fascini oi che fai viste su tutti i fascini longi che c'è su che vedi sapete che è un fascino longi? guarda questo come se fosse una legame come una corda mettiamo qui tutto questo è attaccato viste è intucinato con i fascini ora questo io non guardaria con noi oggi ed è sotto è attaccato e quindi abbiamo fatto? stiamo ancora ancora c'è una operazione che è meglio ancora questa è la prima attaccatura questa ora è già attaccato un fascino un ducineo pongo un ideato con l'oreca mezzo ora è che fai schistire l'occhio si pigliano mettiamo un mezzicama così regima talie e nesce un fascino più lungo che c'è quello più lungo l'arrestato alcune per aver guardato il fa ovviamente un fascino più lungo si pigliano anche un fascino più lungo che l'arrestato per aver guardato vede e la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.